andiamo con il titolo nel mirino e andiamo a svelare quello che è scelto e tra poco lo vedremo anche graficamente vonovia allora parliamo di una società immobiliare tedesca che fa parte dell'indice dax 30 perché questo titolo enrico allora dopo il precedente titolo e quindi sempre settore immobiliare ho voluto cambiare listino ma rimanere sullo stesso settore proprio per evidenziare come sia un settore che ha pagato tantissimo sia l'aumento dei tassi sia l'apprezzatura di quello che è stato negli ultimi anni gli immobili che hanno visto una svalutazione e poi visto che parliamo sempre di cicli e ritorni sui mercati ovviamente anche il settore immobiliare non fa parte di quella che è la vita quindi dei vari settori ciclici ed è un settore che a differenza di altri è sceso tantissimo quindi mi aspetto una ripresa del settore e in più a parte queste due piccolissime chiacchiere che ho fatto di analisi fondamentale c'è l'aspetto per me preponderante quindi grafico esatto l'analisi tecnica nuda e cruda e se sei d'accordo potremmo partire ti chiedo dal weekly possiamo proprio vedere un movimento molto molto chiaro di lungo periodo degli ultimi 8 anni vediamo proprio come dal 2014 in poi il prezzo avesse imboccato un uptrend sostenuto e visibile a occhio nudo e poi tra il 2020 e il 2021 abbia traccheggiato tra i 55 e i 60 euro per poi venire negli ultimi due anni giù a piombo e quindi chiudere probabilmente un ciclo di 8 anni partito dai 20 euro e poi tornato di nuovo poco tempo fa proprio a 20 euro quindi quell'area si dice sempre il grafico a memoria quell'area possiamo definirla come un'area supportiva che una volta testata ha tenuto e da lì è partito un primo rimbalzo che ha fatto rivedere area 25 euro al titolo e dopo l'inizio del rimbalzo durante quest'anno c'è il movimento classico di pullback di ritraccio prima di quella che potrebbe essere una nuova gamba rialzista una nuova ripartenza quindi i minimi a mio modesto parere sono stati fatti nel 2020 proprio a 20 euro peraltro soglia psicologica cifra tonda ripartenza e adesso il pullback in atto e se vogliamo una volta fatta l'analisi di media andare a cercare il timing quindi quello che potrebbe essere il livello di ingresso possiamo passare al time frame daily dove sono andato a evidenziare proprio due livelli che vanno secondo me tenuti sott'occhio vanno proprio monitorati sono due livelli che possono essere importanti per entrare uno è su un'eventuale debolezza quindi su una prosecuzione di quello che è il movimento delle ultime sessioni di ritraccio quindi se dovesse andare a fare un doppio minimo in area 20 euro sarebbe a mio parere un livello davvero davvero di otto so che di otto non è un termine troppo tecnico ma sotto Natale è simpatico oggi oggi esatto siamo anzi ci sono gli amici che ci mandano ancora tutti gli auguri e quindi ci sta ci sta assolutamente quindi un doppio minimo di 20 euro sarebbe un livello interessantissimo viceversa se dovessimo avere una ripartenza immediata i 25 euro sono una resistenza che se rotta confermerebbero ormai l'inversione di trend ribadisco non è entrare troppo tardi entrare a 25 perché il titolo era a 60 quindi compreremmo comunque in ottica di medio periodo a buon prezzo quindi ottica long su un retest in area 20 oppure se si va sopra a 25 euro d'accordo allora Vonovia entra nella nostra watch list nei titoli del mirino a questo punto giusto per chiudere il discorso restando ancora su questo viso che abbiamo parlato di settore immobiliare ci sono dei settori che stai guardando particolarmente poi andiamo a leggere i messaggi i settori quando vai in processione devi andare per forza sui titoli anticiclici lo diciamo sempre insomma ci sono titoli anticiclici penso a Enel ad esempio che hanno dei dividendi importanti e sono lontani dai massimi quindi ripeto in generale mi attendo ancora un periodo di debolezza dei mercati quindi il grosso è stato fatto però da qui in poi insomma cominciare a mettere lentamente in portafoglio qualche utility o qualche alimentare campari in primis insomma secondo me